Ciao a tutti, quest'oggi video cose non a caso del mese di marzo, il classico video che faccio tutti i mesi in cui vi parlo dei prodotti, delle cose insomma che hanno maggiormente caratterizzato questo mese allora come al solito abbiamo skin care, make up, capelli, corpo, profumi, smalti, cose per la casa, abbigliamento abbiamo un po' di cose oggi, quindi direi di partire subito e partirei dalla skin care partiamo da alcuni prodotti che ho introdotto nella mia skin care serale che mi stanno piacendo veramente tantissimo allora innanzitutto partendo dalla rimozione del make up, devo dirvi che ho trovato il mio nuovo bifasico preferito sapete che io strucco sempre gli occhi con un bifasico perché li trucco sempre, quando li trucco in maniera abbastanza pesante nel senso che uso tanti prodotti, ho sempre una mattita occhi sia nella rima che fuori dalla rima ho sempre mascara con il primer mascara, quindi preferisco usare uno struccante specifico prima poi di andare a struccare tutto il resto del viso allora io ho preso questo per puro caso perché non avevo trovato al supermercato quello di L'Oreal è lo struccante di Dermolab, struccante bifasico, è un bifasico classico, semplicissimo è fantastico, fantastico, allora ottimo rapporto qualità prezzo ha una parte diciamo oleosa, sufficientemente oleosa per sciogliere la qualunque, la velocità della luce senza però lasciare residui, appannare gli occhi, su di me non brucia, nulla di nulla è efficacissimo in pochissimo tempo, veramente lo sto amando tantissimo ne ho già comprato un altro, ne ho già uno di scorta, veramente mi sta piacendo da morire poi vi devo parlare però del trattamento viso più efficace che io abbia mai utilizzato nella vita ve lo giuro, allora ve l'avevo anticipato in un video in cui applicavo la mia skincare serale con voi che avevo cominciato ad utilizzare questa linea al retinolo di Rock allora io con Rock in passato ho collaborato ma non in questo caso io questa linea l'ho comprata di mio, si tratta della crema con tornocchi del siero viso con tornocchi, non quello in capsule ma quello appunto classico che esce da questo erogatore e della crema viso questa è la linea, vi scrivo sotto i nomi specifici perché vi dico che è la linea più efficace in assoluto che abbia provato perché mai come in questo caso io vedo dei risultati veramente sconvolgenti non sto esagerando ve lo giuro io ho iniziato a utilizzare questi prodotti alla fine di febbraio oggi, giorno in cui sto registrando, è la mattina di Pasqua quindi posso dire di averli usati un mese e mezzo e non sono neanche alla metà di utilizzo del trattamento perché vi faccio vedere con la crema, non so se si vede col bianco sono arrivata qui, ne ho usato direi un terzo per quanto riguarda il contorno occhi lo si capisce abbastanza sono arrivata qui il siero è quello che finirà per primo senza ombra di dubbio a parte che è più leggero ma si può aprire, lo vedo ne ho usati almeno due terzi dunque questa è una linea a retinolo che Rocca ha studiato perché possa essere utilizzata sia di giorno che di sera ma io l'ho utilizzata solo di sera il retinolo è un attivo piuttosto potente dal punto di vista, diciamo, delle sue funzionalità anti-age ha proprietà leviganti di prevenzione, di assottigliamento delle rughe sottili esistenti ha proprietà di levigare a fondo la pelle di uniformare la grana, l'incarnato della pelle e anche di alleviare i poli dilatati il retinolo è fotosensibilizzante ma soprattutto è un ingrediente, è un attivo che su pelle sensibile potrebbe, non dico creare reazioni per l'amore di Dio, però potrebbe dare qualche fastidio questa linea è studiata perché possa essere usata anche di giorno ovviamente con l'utilizzo poi di un SPF, una crema solare dopo proprio perché il retinolo è fotosensibilizzante ma il lepercentual di retinolo sono tali per cui non dovrebbero andare a sensibilizzare la pelle in più è una linea altamente idratante e nutriente quindi l'aspetto attivo del retinolo è in qualche modo amalgamato con questo aspetto di idratazione e di nutrimento veramente profondi ora, se li seguite sapete che io ho una pelle piuttosto sensibile e reattiva e io nonostante il claim dell'azienda su cui non ho nulla da dire nel senso che sicuramente sarà come dicono io questi prodotti li utilizzo comunque solo la sera quindi io di fatto li ho utilizzati per un mese e mezzo usandoli comunque solo la sera che cosa ho visto? ho cominciato a vedere i primi reali risultati dopo un paio di settimane abbondanti anche 20 giorni di utilizzo allora, il primo risultato che ho visto è una estrema luminosità cioè mi svegliavo la mattina nonostante sia stata male nonostante sia un periodo in cui dormo male e poco più del solito con il viso luminoso non unto, non unto perché sono prodotti poi ci arrivo molto molto confortevoli che non ungono affatto la pelle ma luminoso poi ho cominciato a vedere una estrema levigatezza della pelle in quanto dico levigatezza intendo proprio io non soffro, non ho tantissimi pori dilatati ma comunque ho visto una riduzione visibile dei pori ma veramente visibile un effetto ottico di leggero assottigliamento delle linee sottili più superficiali ricordatevi che nessun prodotto cosmetico toglie le rughe esistenti però diciamo che ho notato questa levigatezza e questa compattezza sulla pelle è una pelle tesa elastica ma tesa io non so come spiegarvi quanto queste cose io le noti molto più che con altri prodotti vedo proprio chiaramente la differenza allora il siero è piuttosto denso ve lo faccio vedere è un fluido, vedete che è piuttosto solido ha questo color giallino poi si va ad amalgamare bene con la pelle e credo che sia il prodotto rispetto alla crema ma anche alla crema contorno occhi più potente ve lo dico perché è l'unico che qualche sera mi ha dato qualche sensazione leggerissima di pizzicore ora, togliamoci, non è vero che un prodotto per funzionare deve pizzicare per forza non è assolutamente necessario probabilmente questo accade sulla mia pelle che è particolarmente sensibile ma a parte la sensazione di pizzicore non è che la pelle sia rossi e comunque non è una sensazione particolarmente fastidiosa tra l'altro è una sensazione che si sparisce completamente nel momento in cui poi avete massaggiato bene il prodotto almeno su di me non tutte le sere la sento l'avrò sentita 3-4 volte probabilmente anche per condizioni mie personali di pelle e poi è sparita completamente completamente comunque il siero ha questa consistenza si va comunque ad assorbire molto bene nella pelle la crema contorno occhi è una crema che nonostante sia idratante e nutriente perché lo è è piuttosto sottile, è leggera non si tratta di una crema balsamo ma di una crema facilmente sopportabile anche in questa stagione per esempio ciò non toglie il suo aspetto nutriente ed idratante non è il contorno occhi più nutriente che abbia mai provato ma è sicuramente il più lesciante il più levigante ma proprio senza ombra di dubbio è una favola il prodotto che io preferisco in assoluto è la crema viso la crema viso è fondente veramente si fonde con la pelle in maniera straordinaria è un piacere spalmarla sul viso è nutriente ma non pesante dà soddisfazione sentite di aver applicato un prodotto che va a lavorare sulla pelle ma non appesantisce non infastidisce per niente ora calcolando il fatto che andiamo verso la bella stagione e che io ho ancora un bel po' di questi prodotti da utilizzare come mi comporterò nelle prossime settimane comunque poi ci aggiorneremo allora il siero vi ho detto è quello che finirò per primo secondo me nell'arco di due o tre settimane io il siero lo terminerò e non lo ricomprerò proprio perché cioè non lo ricomprerò ora andando verso la bella stagione proprio perché vi ho detto che secondo me è il prodotto più concentrato tra i tre e considerato il fatto che sicuramente sarò più esposta al sole rispetto all'inverno considerato il fatto che anche per questo la mia pelle probabilmente sarà un pochino più sensibilizzata lo ricomprerò eventualmente a settembre per dire e lo sostituirò con un semplice sieroidratante un prodotto all'aceto ialuronico semplicissimo questi altri due prodotti la sera invece li continuerò a tenere in uso perché vi ho detto che questo è un contorno occhi super levigante ma non particolarmente pesante la crema pur essendo fondente e nutriente vi assicuro non è per niente unita pastosa è un prodotto che posso continuare ad utilizzare tranquillamente almeno fino a giugno poi vedremo se a giugno l'avrò terminata probabilmente sì passerò ad altro altrimenti la metterò in stand by fino a settembre ma sinceramente credo che da qui ai prossimi mesi andrò a finire questo trattamento quindi diciamo che questo lo sostituirò per l'estate questi due prodotti invece fino almeno a estate inoltrata continuerò tranquillamente ad utilizzare un prodotto che mi sta aiutando molto a non solo a tollerare tra virgolette questo trattamento retinolo ma anche a preparare la pelle adeguatamente perché lo accolga è questa acqua termale di Uriage è fantastica è fantastica allora è un'acqua termale semplicissima che secondo me va a idratare e a lenire meravigliosamente la pelle io una volta che ho finito di struccare e detergere il viso vado ad applicare in maniera piuttosto abbondante questa acqua termale sul viso tra l'altro è eccezionale perché il getto è continuo non si blocca mai adesso avrò a bagnare tutto non fa niente è un'erogazione meravigliosa la vado ad applicare in maniera abbondante sul viso la vado solo leggermente a tamponare non aspetto che si asciughi completamente e poi vado a applicare questo serum io ho notato che in questo modo l'effetto del pizzicore ma ricordatevelo è un pizzicore veramente molto molto relativo lo si avverte molto meno in più si stende e si assorbe meglio nella pelle quindi anche questo è un prodotto che mi sta piacendo tantissimo e che sicuramente una volta terminato ricomprerò vi ho detto che al mattino non uso questi prodotti per quanto riguarda siero e crema viso non c'è niente di nuovo rispetto a quello di cui vi ho già parlato ma ho terminato comunque un contorno occhi che andasse bene anche di giorno non volevo spendere troppo volevo un prodotto estremamente semplice che fosse semplicemente idratante e nutriente e ho comprato questo che dall'aspetto non si capisce che prodotto sia c'è scritto solo anti-age eye contour il marchio è questo vi ho lasciato la scatolina così potete rendervi conto meglio del prodotto se lo trovate sugli scaffali io l'ho trovato dai persop e credete averlo pagato 12 o 13 euro ah non vi ho detto rock ma lo sapete si trova a parte su internet spesso in offerta ma in farmacia in parafarmacia e a prezzi assolutamente onestissimi questo direi che è chiaramente un prodotto low cost il marchio è dottor gente mi pare dottor gente esatto si tratta del contorno occhi A3 Age SOS con aceto ialuronico escina carnosina olio di mandorre dolci e vitamina E eletto prodotto dell'anno nel 2022 sono 15 ml di prodotto qui c'è scritto da oltre 60 anni di esperienza nel settore salute nasce questo cosmetico funzionale prodotto dermatologicamente testato ovviamente vediamo se trovo delle specifiche ok allora la formula A3 dottor Gert scusate non Gente contorno occhi SOS contiene aceto ialuronico prezioso polimero naturale in grado di legare e trattenere l'acqua nell'epidermide contrastandone l'inardimento con un'azione mirata sulle rucche sottili per un contorno occhi più levigato e disteso poi c'è la cernosina efficace antiossidante che contrasta i danni causati dai raggi UV e dai radicali liberi alle cellule epidermiche e al microcircolo la sua texture leggera e di rapido assorbimento ne permette l'utilizzo anche prima del make up con un'azione antifatica allora io direi che sono d'accordo su tutto qui dice rughe sottili ai lati degli occhi gonfiore macchi intorno all'occhio pelle poco elastica allora fa tutto quello che dice di fare ha una consistenza effettivamente piuttosto leggera non leggerissima non è un gel è una crema ma è una crema che si assorbe molto facilmente nella pelle leggera bellissima come base trucco e fa esattamente quello che dice di fare il contorno occhi resta morbido fresco idratato luminoso devo dire che mi trovo veramente molto molto bene poi vi accenno ma ci aggiorneremo in merito a un prodotto che ho ricevuto dall'azienda si tratta di Ava Ava è un brand israeliano di cosmetica che spesso mi manda dei prodotti che però avevo conosciuto prima che loro mi contattassero avevo già utilizzato diversi loro prodotti Ava utilizza nella maggior parte dei suoi prodotti cosmetici un brevetto che si chiama Osmoter che utilizza i benefici per la pelle dei sali del marmorto in questa miscela che è molto funzionale sulla pelle allora che cosa mi hanno mandato mi hanno mandato un prodotto perfetto per questa stagione ma in realtà per tutte diciamo che il lancio del prodotto è perfetto in questa stagione ma è un prodotto da usare tutto l'anno si tratta di un SPF protecting moisturizing lotion SPF 50 e con più ampio spettro possibile perché parliamo di un PA più 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 quindi del più ampio spettro di protezione solare possibile allora l'azienda ci dice che questo è una sorta di siero crema molto idratante leggero ma appunto con un SPF molto elevato allora facciamo parlare l'azienda e poi vi dico che cosa ne penso allora la linea di essenziali Ava Hydrate si arricchisce con una nuova proposta che combina tutti gli attivi idratanti preferiti dal maschio israeliano e un filtro solare ad ampio spettro una formula multitasking che idrata intensamente la pelle e la protegge dal photoaging racchiuse in emulsione leggera a rapido assorbimento perfetta per qualsiasi momento della giornata e dell'anno soprattutto durante l'attività sportiva e le giornate all'aperto l'esclusivo complesso osmotere che richiama in superficie l'idratazione naturale degli strati più profondi della pelle ridonando luminosità e compattezza si combina con il bacillus ferment di origine marina per mantenere il benessere e la morbidezza della pelle benefici idrata intensamente protegge quotidianamente dai raggi solari dona morbidezza non lascia tracce sulla pelle ora sì nel senso che è tutto vero tranne il fatto che sia un prodotto poi alla fine così tanto leggero allora partiamo dal presupposto che questo prodotto nasce per sostituire la crema idratante il consiglio di utilizzo è quello di utilizzare questo prodotto direttamente sopra il siero e non sopra una crema questo per tutti i tipi di pelle vedete che malgrado il prodotto appunto sia così erogato e ricordi un siero è più una crema leggera che un siero proprio anche al solo momento in cui lo andate a derogare sulla pelle ma il fatto è che in realtà il massaggio richiede una certa prepotenza una certa forza la texture della crema non è sottilissima è come quasi se man mano che andate a massaggiarla facesse un pochino di attrito diciamo che l'ampio spettro di protezione solare che contiene si percepisce almeno mentre lo massaggiate si percepisce anche una volta che l'avete appena massaggiato non so se si possa notare che la pelle risulta leggermente lucida più che luminosa direi un po' lucida e al contatto appena appunto steso il prodotto è assorbito nella pelle è leggermente appiccicoso diciamo che è considerato il fatto che esistono dei prodotti di questo genere protezioni solari anche a costi molto più bassi perché questo prodotto ha un prezzo consigliato di 55 euro che da subito al primo utilizzo risultano più confortevoli non so se ne valga effettivamente la pena che cosa vi devo dire io però due cose la prima è che passati una decina di minuti questa sensazione di appiccicamento che bellissima parola e soprattutto di lucidità scompare completamente quindi l'effetto non è opaco l'effetto rimane comunque quello di una base luminosa ma non unta quindi c'è una bella differenza per cui diciamo che gli aspetti più fastidiosi in un certo senso di questo prodotto scomparono dopo una decina di minuti quindi calcolate che se applicate poi sopra un fondotinta è meglio secondo me aspettare una decina di minuti passati questi minuti in realtà questo prodotto funziona anche molto bene come base trucco e soprattutto non inficcia la performance della vostra base nel corso della giornata allora io come avete visto credo non l'ho ancora usato tantissimo perché sono uscita poche volte perché ho ricevuto questo prodotto intorno al 20 di marzo però ho avuto modo di testarlo con due tipologie di fondotinta liquidi e con un fondotinta in polvere stando fuori ovviamente se l'ho messa perché sono uscita e vi devo dire che tutti e tre questi fondotinta hanno resistito mantenendo le loro specifiche performance questo non li ha sciolti non è sudato fuori non ha lucidato di più di quanto non facciano comunque quei prodotti normalmente quindi da questo punto di vista problemi zero questa è diciamo un'accortezza un'avvertenza che vi volevo dare ma ve ne volevo dare anche un'altra voi sapete che per raggiungere l'effettiva protezione che è dichiarata sui prodotti SPF bisogna utilizzare una buona quantità di prodotto non lesinare con la quantità devo dire che se utilizzate questo prodotto la prima volta vi viene male perché vi ho detto quali sono le caratteristiche utilizzare la quantità che serve fa paura in realtà io ho notato che se utilizzate effettivamente la quantità di prodotto necessaria per raggiungere l'SPF è più facile massaggiarlo sulla pelle e farlo assorbire che se ne utilizzate poco non so spiegarvi come sia possibile ma proprio l'attività di massaggio riesce più facile se avete parecchio prodotto sul viso non cambiano le tempistiche di assorbimento sulla pelle di effetto sulla pelle a seconda di quanto prodotto utilizzate quindi se decidete di provare questo prodotto sicuramente potete abbondare tranquillamente anche se l'effetto in partenza potrebbe sembrare pesante vi dico è una cosa che col tempo va a passare sicuramente vi ho detto considerate il prezzo considerate quello che c'è oggi sul mercato probabilmente si trovano prodotti più leggeri e più facili da utilizzare nel quotidiano c'è da dire però che se avete una pelle secca una pelle un po' agie una pelle che necessita di nutrimento e volete velocizzare tempi e prodotti da utilizzare se dopo il siero mettete questo prodotto avrete anche dei benefici in termini skin care classici quindi nutrimento e idratazione e è quello che io farò io ho finito la mia protezione solare Garnier l'avete vista nell'ultimo video prodotti finiti stavo per riacquistarla e mi è arrivata questa io non riacquisterò quella di Garnier a questo punto utilizzerò questa sopra il mio siero all'acido ialluronico e sto a posto così come ho fatto fino ad oggi nei giorni in cui l'ho provata comunque ci aggiorniamo sicuramente anche il mese prossimo in cui questo prodotto entrerà nelle mie abitudini in maniera massiccia perché spero di non star più male e di uscire di più e perché l'attenzione quando poi arriva la bella stagione a questo tipo di cose aumenta ancora di più quindi sicuramente ci aggiorniamo allora passiamo al corpo faccio velocissimo cioè innamorata innamorata persa di questa lozione corpo di Ceravee Moisturizing Lotion for dry to very dry skin è una lozione idratante è la sorella gemella della crema che si spreme in tubo classica che avete già visto sul mio canale sia in utilizzo che nei prodotti finiti questa è la sua sorella più leggera ma l'effetto è identico l'effetto sulla pelle di nutrimento e di idratazione di morbidezza di levicatezza sulla pelle di idratazione che dura è esattamente il medesimo quindi consiglio questo prodotto in questa stagione ovviamente soprattutto andando verso un clima ancora più caldo perché non è leggerissimo cioè non è un fluidino che scappa via è un fluido che va massaggiato ma si assorbe super velocemente avendo comunque gli stessi risultati rispetto alla crema un po' più pastosa ma comunque meravigliosa che ho già utilizzato quindi lo consiglio assolutamente per questa stagione e lo consiglio a chi non ama particolarmente le creme troppo pesanti ma comunque una pelle secca a chi si stufa di massaggiare troppo e non c'ha voglia questo è un prodotto decisamente più smart di ottimo livello CeraVe garanzia di qualità rispetto al prezzo si trova facilmente in farmacie e parafarmacie online ma io trovo tutto al supermercato tranquillamente questo è un boccione tra l'altro gigantesco è ottima non c'è assolutamente niente da dire per quanto riguarda i capelli vi parlo di due prodotti che sto utilizzando con grande piacere in questo periodo non sono prodotti nuovi ma sono prodotti che sto utilizzando con costanza allora diciamo che da quando ho fatto il decattering l'avete visto dei prodotti in generale beauty ho diciamo razionalizzato molto di più rispetto ai prodotti capelli che avevo quindi ne sto usando meno in maniera più mirata in maniera più continuativa poi ho tagliato i capelli questo mese quindi diciamo che le lunghezze la parte più danneggiata dei miei capelli se ne è andata quindi insomma ho rivisto un po' le abitudini e ho trovato la mia quadra almeno per il periodo oggi non vi parlo di prodotti per il lavaggio ma di prodotti post shampoo pre styling sto usando con enorme piacere questo famosissimo prodotto di Revlon l'unique one quello classico in confezione rossa una volta che ho tamponato i capelli sono usciti dal turbante prima di passare all'asciugatura applico questo prodotto che è un latte leggerissimo che si eroga spruzzandolo da qui o lo erogate direttamente sulle ciocche io quello che potremmo fare erogo faccio 5-6 pusciate di questo prodotto sulle mani vado a distribuire tutto al meglio e poi passo al rastrello partendo dalle lunghezze insistendo poi sulle punte questo è un prodotto con 10 benefici in uno i soliti è prima di tutto un termoprotettore della cosa che mi interessa di più perché io uso phone e piastre sempre quindi il termoprotettore è assolutamente necessario ma è un prodotto che va anche ad idratare a rendere più luminoso più luminosi i capelli più lucenti è il classico prodotto finishing pre asciugatura io ho un altro prodotto meraviglioso che potrebbe funzionare allo stesso modo nel senso che ha le stesse caratteristiche e parliamo di questo prodotto che mi è stato inviato dall'azienda la Sartig la Sartig Serum in questo caso si tratta proprio di un siero per capelli lo vedete si eroga come un siero viso classico e anche questo ha funzioni di idratazione e anche di termoprotezione ma su di me funziona meglio questo prima di asciugare i capelli mi sembra che vada a dare un effetto di chiusura del fusto di uniformità del fusto superiore probabilmente perché è pieno di siliconi questo invece credo che sia un prodotto naturale o seminaturale comunque adesso vi darò le specifiche che cosa faccio io questo lo utilizzo prima di asciugarli questo invece lo distribuisco faccio due busciate sulla punta delle dita anche qui vado a rastrello sulle lunghezze e a chiudere le punte dopo l'asciugatura perché questo è un prodotto leggerissimo veramente peso zero va a idratare e a chiudere alla vista perfettamente le punte in più lo si può utilizzare tranquillamente come profumo per capelli perché la fragranza di questo profumo è stata richiesta in maniera specifica dall'azienda a un'azienda di grass sapete che sono maestri profumieri a grass e questa è una fragranza specifica per capelli quindi funziona anche da profumo per capelli vi vado a leggere più nello specifico le caratteristiche di questo prodotto allora serum d'exception siero termoprotettore 97% di ingredienti di origine naturale senza siliconi e oli minerali nutrimento e termoprotezione durante lo styling fino a 230 gradi centigradi per capelli luminosi protetti sani grazie al potere dei semi di chia e dell'olio di marula volevo vediamo se trovo il come si dice buongiorno la fragranza eccola qua la sua fragranza creata a grass avvolge i tuoi sensi con eleganti note fiorite di arancio su un fondo di vetiver fava tonca e nocciola e sento soprattutto la fava tonca e la nocciola mentre la textura è leggera e fluida non lascia residui perfetto anche per i capelli più sottili verissimo ora io questo l'ho utilizzato anche come termoprotettore su capelli bagnati e non mi sono trovata male diciamo che soprattutto quando li faccio lisci secondo me questo su di me funziona meglio quando li faccio mossi per cui diciamo ho bisogno anche di più leggerezza utilizzo anche questo molto volentieri prima dell'asciugatura quindi diciamo che questa combinazione in vari modi elaborata sulla mia testa su di me funziona perfettamente allora passiamo al make up ma qui faccio abbastanza veloce perché vi lascio qui sotto il link all'ultimo video che ho pubblicato lunedì scorso in cui vi mostravo la mia make up bag del periodo quindi quei prodotti che avete visto lì sono tutti quelli che ho utilizzato più volentieri in questo mese diciamo che sicuramente abbiamo una scoperta e due enormi scoperte la scoperta è questo fondotinta di Clinique scoperta perché non l'avevo mai utilizzato prima non perché sia un prodotto nuovo sul mercato si tratta del continuo su e giù con gli occhiali scusatemi ma così even better clinical serum foundation spf 20 io ce l'ho in colorazione 010 se non mi sbaglio si comunque si chiama alabaster allora non aggiungo nulla su questo prodotto perché ve ne ho parlato in quel video ma soprattutto ho realizzato anche un video applicazione review di questo fondotinta a me piace tantissimo è quello che indosso che indosso veramente tanto di frequente lo amo per me è stata una scoperta magnifica riscoperte grandiose delle polveri viso restiamo sul viso allora abbiamo già mostrato in quella make up bag questo pezzo della palette di Kevin Kwan la making faces beauty book chapter 1 contour le polveri contouring di Kevin Kwan sono famosissime da un sacco di tempo sicuramente non sono i prodotti più nuovi usciti sul mercato ovviamente anzi erano in voga da parecchi anni fa ma ciò non toglie che restino ottime vi ho già detto che amo tutte e tre le colorazioni anche qui le indosso sono perfette scriventi ma sfumabili le adoro dovreste trovare queste polveri anche in formato singolo vi dico come si chiamano trovate su internet nei vari siti che rivendono make up abbiamo la polvere sculpt questa che è la più famosa forse del brand in colorazione medium che va benissimo sulla mia carnigione abbiamo l'highlight candlelight questo che come vi ho già spiegato in quel video è un highlighter molto discreto molto raffinato e poi abbiamo il bronze desert nights non è troppo aranciato non è troppo caldo è perfetto se si trova ancora non lo so però questo pezzo di palette fa parte appunto della making faces beauty book che vi ho fatto vedere tante altre volte ve la rimosto per completezza c'è questa specie di custodia con uno specchio e poi le palette sono tra loro calamitate quella che vi ho mostrato ora appunto è la chapter 1 poi abbiamo la chapter 2 che contiene due blush bellissimi e tre colori di ombretti opachi scuri per la definizione e poi abbiamo la chapter 3 che è una palette bellissima di ombretti ve l'ho detto io ho utilizzato principalmente questa ma è un prodotto che io amo da tantissimo tempo e lo sapete altra super mega riscoperta questo blush di mulac of course è famosissimo polvere magnifica super scrivente sfumabile un pesca perfetto cioè se devo pensare al blush pesca matt perfetto penso a questo anche questo lo indosso ora diciamo che questi sono i prodotti che maggiormente ho utilizzato con piacere li ho scoperti e riscoperti molto volentieri nell'arco di questo mese poi tutti i prodotti che vi ho mostrato in realtà li ho utilizzati volentieri per semplicemente per completezza vi dico come ho realizzato il trucco oggi oltre alle cose che vi ho già mostrato ho utilizzato la meravigliosa nuovo palette di Anastasia Beverly Hills e oggi ho usato come colore protagonista questo a cui ho fatto il buco ma non perché sono brava ma perché gli ombretti di Anastasia Beverly Hills ve l'ho già detto più volte ma sicuramente li conoscete sono ombretti che tendono a spriciolarsi facilmente questo per me è un colore magnifico purtroppo in camera non si percepiscono i riflessi freddi grigio azzurro e lilla che ha questo bronzo caldo invece di base che sono qualcosa di magnifico ho usato poi questo sotto l'arcata sopraccigliare questo con un colore di transizione questo nella piega questo per definire è l'ombretto più difficile questo da utilizzare più difficile da sfumare forse anche per il colore e basta ho usato questa con grandissimo piacere sulle labbra invece ho la mia combo nude preferita appunto toglietemi tutto ma non questi due prodotti ovvero la matita di Charlotte Tilbury Iconic Nude e il meraviglioso rossetto di Lisa Eldridge dei Velvet Lipstick questo è il Velvet Nuse questo per me è il nude semplicemente perfetto sulla qualità di questi rossetti vi ho già abbondantemente tediati non mi dilungo ora ma li amo alla follia diciamo qualcosa anche sugli smalti che è un po' che non ne parlo io ho usato solo tre smalti tre colori questo mese per me tre colori che avete questi e avete tutto per quanto riguarda le unghie perfette secondo me tra l'altro sono anche i miei tre marchi preferiti partiamo dal mio preferito in assoluto come marchio e parliamo di essi della linea classica ne ho tantissimi di smalti di essi questo è il famosissimo Cicilli è perfetto è il tortora medio chiaro né freddo né caldo è lo smalto da mano curata ed è il salvatempo perché questo smalto si mette a occhi chiusi se appena appena andate fuori per caso macchiate la pelle fate così e viene via non nulla è il classico smalto che utilizzo quando voglio appunto la mano curata ma non ho voglia né tempo di perderci tempo appunto e poi due rossi stratenari allora Fabi è un altro brand che io amo tantissimo brand italiano questo si chiama Fabi's Red quindi rosso Fabi ed è quello che indosso in questo momento calcolate che ce l'ho indosso da 4-5 giorni probabilmente non sarà più tanto lucido ma non posso lamentarmi direi è il rosso classico il rosso da signora proprio è meraviglioso le formule Fabi io le amo e amo anche il pennellino perché a parte che ha questa impugnatura lunga che è facile da manovrare ma poi ha un pennellino abbastanza di precisione che è meraviglioso se volete una manicure veramente curata nel dettaglio io adoro i pennelli piccoli lo so che sono un po' controcorrette ma io li amo davvero e poi c'è questa meraviglia di Chanel che è Gitan è obbligatorio avere smalti Chanel oggi come oggi no Fabi Essie ma anche altri marchi sono ottimi ottimi non è obbligatorio spendere per Chanel senza dubbio a parte che questo l'ho avuto un ring regalo da un'amica ma io gli smalti Chanel li amo sono un po' il mio vizietto non ne ho tanti ricompro solo il rouge noir quando lo finisco però sono meravigliosi meravigliosi allora a tantissimi non piacciono perché rispetto al costo su tante unghie non durano me lo dite spessissimo hanno il pennellino piccolo tante persone non amano neanche questo ma invece io li vado a cercare gli smalti con il pennellino piccolo quindi per me non è un problema allora sulla questione durata spesso me lo chiedete io non faccio testo a me dura la qualunque la qualunque io lo smalto lo tolgo perché o perde appunto di lucentezza col tempo o perché crescendo l'unghia usiamo questo dito crescendo l'unghia si vede la lunetta sotto e a me non piace quindi lo cambio per questo io con le mani faccio tutto in casa tutto e non uso i guanti sempre io guanti li uso solo per pulire il bagno anche per lavare la cucina per lavare altre superfici della casa utilizzare altri detersivi non uso i guanti perché mi danno fastidio quindi non so cosa dirvi dipenderà tanto dalla base nel senso che ho un'unghia molto forte che non si sfalda non so che cosa dirvi su di me smaltiturano tutti direi praticamente allo stesso modo magari c'è ecco i fabi tendono se ho le lunghe un po' lunghe a consumarsi un pochino in punta cioè si percepisce leggermente dopo 7-8 giorni la punta un po' consumata ma solo se ho l'unghia un pochettino lunga e perché uso la tastiera del computer è quello soprattutto questo per i fabi a me Chanel e essi non fanno neanche questo però ripeto è una cosa molto molto personale andiamo andiamo ora a tre profumi quanto tempo ma insomma sta diventando rum anche questo tre profumi che secondo me che ho utilizzato un sacco in marzo direi che sono gli unici che ho usato tranne uno che è arrivato però a fine marzo ve ne parlerò più avanti sono gli unici che ho usato questo mese allora sono tre profumi estremamente unici con delle specificità evidenti per ciascuno sono accomunati secondo me da due caratteristiche tutti e tre questi profumi non hanno una precisa stagionalità a mio avviso ma soprattutto sono se invece voi amate utilizzare le profumi stagionali quindi in questo periodo volete andare verso qualcosa di più leggero di più fresco ma non è ancora il tempo sono profumi da raccordo stagionale perfetti allora partiamo da quello che forse ho portato di più questo mese che sto indossando anche oggi e parliamo di un brand italiano di nicchia ovvero core eterno punk motel profumo realizzato firmato da Luca Maffei uno dei nasi più importanti a livello internazionale e nostro conterraneo questo profumo è spaziale è meraviglioso adesso io vi leggo le note ma sappiate che questo è uno di quei profumi che ha una personalità molto forte che va oltre le note che lo caratterizzano allora gli accordi principali sono muschiato vanigliato rosa talcato è una fragranza unisex è del 2019 di Luca Maffei in testa abbiamo rosa bianca e bergamotto la testa è fresca e delicata non immaginate una rosa stantia anzi vorrei dire che io la rosa quasi non l'avverto anche perché il tutto la testa è sporcata all'istante dal cuore il cuore dà la particolarità a questo profumo perché il cuore è caratterizzato solo ed esclusivamente da salicitati ovvero d'acido salicilico che cosa fanno i salicitati al bergamotto alla rosa sono sporcati da questi salicitati che danno un aspetto lievemente salato al profumo senza effluvi marini quindi immaginate un un aspetto salato ma non ozonato non immaginate profumi ozonati perché questo non c'entra niente profumi o marini dice il sito di core eterno e io mi ritrovo tantissimo in questa descrizione come il vento che arriva dal mare attraversando il deserto è un'immagine molto fedele al tipo di profumo che è questo perché la sensazione è di ariosità quindi di levità ma una levità terrena terrosa cioè arriva dal mare un vento che porta con sé ciò che incontra compresi i sentori della sabbia del deserto del calore alla base abbiamo poi vaniglia muschio e semi di ampretta quindi abbiamo una base dolce e calda che accoglie meravigliosamente questo sentore allora questo è un profumo raffinato è un profumo delicato non è un profumone ma è proprio questa sua caratteristica di leggerezza sporcata io l'ho definito una volta mi pare che un profumo sbagliato c'è qualcosa di sbagliato qui dentro qualcosa che rende questa levità più terrena e carafronosa che lo rende veramente unico io devo ancora ringraziare la mia amica Alice perché quella pazza scatenata me l'ha regalato per il compleanno è qualcosa di magnifico in questa stagione dell'anno è semplicemente perfetto restiamo su un profumo italiano di nicchia un profumo una linea di profumi realizzati da una farmacia di genova la farmacia del castello la linea strega del castello e parliamo di vaniglia verde ve ne ho parlato fino alla nausea è uno dei miei profumi preferiti ormai da due anni abbondanti me l'ha fatto scoprire la mia amica Evelyn che mi aveva regalato una in Italia e poi mi sono comprata la versione grande ve l'ho già detto un milione di volte questa è una vaniglia molto adulta è una vaniglia seriosa anzi no seria ma non seriosa è una vaniglia ricca la fragranza è realizzata facendo sì che tutti gli elementi che costituiscono la pianta della vaniglia fossero presenti in questo profumo quindi abbiamo sì il baccello abbiamo sì il fiore abbiamo anche il ramo e la foglia per questo si chiama vaniglia verde questo aspetto verde rende il profumo più intrigante più interessante assolutamente non bambinesco non dolcioso e sulla lunga distanza soprattutto l'aspetto più amarognolo del verde si tramuta in qualcosa di più umido e anche un po' fumoso è una vaniglia interessantissima che va benissimo anche in questo periodo dell'anno per questo aspetto verde sferzante che si avverte soprattutto nelle prime ore di indosso questo è un profumo persistentissimo che ha una discreta proiezione buona proiezione direi ma soprattutto è molto persistente ma poi c'è la bomba la bomba è un profumo arabo anche questo ve l'ho già mostrato quanto l'utilizzo volentieri in questa stagione non lo potete capire è un profumo di Lattafa adesso vi leggo di cosa si tratta a parte la boccetta che proprio beh dovete amare questo gusto ma è profumo arabo per eccellenza non immaginate però un profumo speziatone super orientale perché profumo arabo non vuol dire solo questo è tutto un mondo meraviglioso da scoprire questo si chiama Ajaygood o Ajavad forse Ajavad forse allora accordi principali fruttato muschiato dolce ambra rosa è del gruppo legnoso aromatico unisex è un profumo del 2021 in testa abbiamo note fruttate mentre ne parlo mi viene la colina allora questo è un profumo con note di testa fruttate che può indossare tranquillamente chi non indossa mai o non ama particolarmente profumi fruttati vedi la sottoscritta ne ho avuti pochissimi nella mia vita e sono anche tanti magari quelli che mi piacciono ma pochi quelli che mi rapiscono il cuore che indosso volentieri dei profumi fruttati generalmente io non amo l'aspetto o troppo dolce quasi nauseabondo sulla lunga distanza o l'aspetto troppo acidulo qui abbiamo un fruttato che è un misto di frutti cioè non vi posso dire che prevalgono i frutti rossi i frutti tropicali è come mettere il naso in una fruttiera di frutta fresca mista dall'ananas alla papaya alla mela alle fragole ecco ma questo aspetto non è preponderante perché è comunque l'accordo di testa nel cuore ci sono rose e gelsomino quindi abbiamo un cuore veramente fiorito quando fiorito vuol dire la poteose del fiorito ovvero la rosa e il gelsomino permesso nel top del fiore il gelsomino è un fiore carnoso è un petalo prepotente la rosa è una profumazione che io sto scoprendo tantissimo nell'ultimo periodo dire profumo di rosa è basta vuol dire niente il profumo di rosa è tanto il profumo di rosa probabilmente a noi in prima battuta rimanda a qualcosa di un po' vintage un po' da cassetto della nonna che io non disdegno comunque il talcato alla Chanel numero 5 ad esempio io lo adoro però diciamo che rosa vuol dire anche petalo fresco vuol dire anche fiore nella sua più colorata e vivace vitalità questa è una rosa di questo tipo è una rosa chiaccherina è una rosa frizzantina se qui abbiamo una rosa delicata un petalo lieve qui abbiamo una rosa giovane frizzante con questo gelsomino che avvolge meravigliosamente ma abbiamo una base parecchio calda perché abbiamo muschio ambra vaniglia e legno di cedro il legno di cedro dà al profumo un aspetto più di tutto legnoso le note di fondo sono quelle più persistenti che restano sulla pelle e che danno più di tutte la firma all'accordo del profumo è un fruttato legnoso di base con note calde e dolci va annusato allora io i profumi arabi li trovo in un meraviglioso negozio che c'è a Brescia in questo magenta che si chiama Kenza fragranze arabe i profumi arabi li trovate tranquillamente online da notino ad amazon a prezzi anche decisamente accessibili quindi se li volete provare anche facendo un blind buy sappiate che il rischio è relativo a livello economico perlomeno però sono anche profumi belli strong perché questo ha una persistenza pazzesca questo persiste di più dei profumi allude anche arabi di cui vi ho parlato in altri video quindi calcolate che mediamente sono profumoni quindi io che esiste questo negozio a Brescia ve lo dico ve lo segnalo perché potendo è meglio andare ad annusarli i profumi molto velocemente per la casa ho riscoperto due fragranze allora io continuo ad accendere le candele profumate anche in estate però so che tante persone smettono di usarle con la bella stagione io vi consiglio caldamente questi spray per l'ambiente che io trovo dati gotà e costano nulla di questo marchio io ho provato anche i bastoncini profumati e perlomeno in casa mia dove gli ambienti sono piuttosto ampi e ci sono delle altezze notevoli non è che facciano un grande effetto l'azienda è fragranteria paradossalmente questi spray durano molto di più nell'ambiente di solito gli spray sono piuttosto evanescenti io vi assicuro che questi si sentono per ore allora questo amo utilizzarlo soprattutto in cucina l'ho quasi finito si chiama madeleine e profuma di biscotti è buonissimo e questo lo uso molto di più in salotto lo uso meno perché in salotto accendo più spesso le candele ma è meraviglioso anche questo si chiama namastè il nome suggerisce qualcosa di orientale di caldo ma molto pacifico è rassicurante è un profumo adatto all'ambiente non va a stordire sono ottimi costano niente e durano l'eternità ultima cosa che riguarda l'abbigliamento questa è la stagione del trench se c'è una cosa che io amo da sempre come capospalla è il trench io da due anni ho questo di ecnm che adoro alla follia perché è un classico trench né più né meno come tutti quanti con le tasche classico però l'ho scelto di questo color tabacco caldo che per me è strepitoso io lo amo alla follia e il fatto di poterlo usare ora mi riempiti gioia mi arriva più o meno metà polpaccio è il classico trench punti fine con la martingala tutto quanto no scusate con la cintura che io leggo dietro perché non lo chiudo mai con la cintura più o meno lo amo fine appunto io amo questo colore in questa stagione perché secondo me sta benissimo con tutto oggi sono vestita di nero e sta bene con il nero col bianco è spaziale col beige col blu col grigio da carattere non spegne un colore così caldo lo amo alla follia tra l'altro sto usando in questo periodo una delle mie borse preferite perché è comodissima e ha lo stesso identico colore praticamente anche questa ce l'ho da una vita è una continuativa credo di Tots scusate sono stata interrotta dicevo questa borsa ce l'ho da una vita io la amo alla follia è comoda è fatta così a secchiello ha un bottone a pressione qui che volendo si può chiudere non proprio do mai ha anche una tracolla che può essere applicata qui per essere portata a tracolla comodamente io non la uso perché la uso così a mano la tengo sotto il braccio è casual ma comunque elegante io amo questa linea di Tots e adoro il colore cioè a me per me questo tabacco è semplicemente sensazionale e sta bene con tutto sta molto bene anche con i colori infatti questa è la stagione oltre che del trench delle sciarpe e delle sciarpine perché è un po' troppo caldo un po' troppo freddo non si sa bene allora che sto utilizzando molto volentieri queste non vi dico le macchine niente perché io le ho prese nell'arco del tempo quando capitava ovunque questa mi piace moltissimo anche su una tinta unita così vedete e quella borsa lì sta già benissimo e mi piacciono sia queste fatte a sciarpa è proprio bella leggerina vedete anche ha delle piccole frange qui in fondo un'altra fatta a sciarpa sempre piuttosto primaverile come concetto di colori è questa per me questi colori che contrastano sono stupendi io amo questi colori corallo e turchese assieme con il blu elettrico per me con questi colori sta benissimo tra l'altro in questo in questo foulard c'è anche del tabacco quindi se lo mettete bene avvolto intorno al collo ed esce da qui magari anche in questo caso con abbinato un jeans io ora ho blusa nera e pantaloni neri quindi non metterò questa credo che ne metterò un'altra che vi farò vedere dopo ma pensate con l'abbinamento di un jeans come stanno bene le trovate su tutti i mercati a 5-10 euro queste sciarpte mi piacciono molto anche però con abbinamenti un po' più invernali queste sciarpa che vi faccio vedere ora sono anche un po' più pesantine e sono fatte a foulard io queste le piego a triangolo così le metto intorno al collo in questo modo le giro dietro poi cerco di trovare il modo in cui il disegno si esca meglio e poi faccio un nodo qua sotto che tengo così rimborsato in modo che escano così solo le punte allora questo è un foulard più pesante quindi va bene ora perché tanto caldo non fa e vedete che ha colori anche più invernali però con il nero sta benissimo ha comunque del tabacco quindi questo sta molto bene come sono vestita oggi considerato che anche appunto sono tutta vestita in nero e si c'è il sole ma non è che il clima sia più caldissimo e un altro uguale a questo come consistenza come calore che emana è questo anche questo lo amo alla follia vedete anche qui c'è del grigio però ci sono questi colori caldi che tra l'altro stanno benissimo come orecchini quindi sono indecisa se oggi usare questo o quello che vi ho fatto vedere prima anche questo sta bene però ecco se non ve lo tiro in faccia magari meglio vabbè stanno bene entrambi secondo me forse con gli orecchini ma no c'è il giallo anche qui c'è un senape anche qui direi che boh forse è questo però non lo so comunque stanno bene tutti e due per dire che come al solito basta veramente poco io mi vesto praticamente quasi sempre nello stesso modo con gli accessori poi si va a fare un po' tutto vedete sono vestita sì tutta di nero ma questi orecchini smaltati con questi colori geometrici sono belli strong con questi accessori faccio il resto ecco mi sa che ho finito sì anche questo mese ho terminato le cose non a caso in questo caso per il mese di marzo io spero di avervi tenuto compagnia spero di avervi dato qualche spunto se avete commenti sui prodotti che avete visto scrivetemi qui sotto se volete farmi domande scrivetemi qui sotto io come al solito vi ringrazio tantissimo vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va ciao ciao